Gossipitavip, se lo sussurra, lo svegliamo. Giuseppe Garibaldi ha deciso di interrompere temporaneamente la sua permanenza nella casa del grande fratello per ulteriori accertamenti medici, come annunciato attraverso i canali social del reality su Canale 5. Questa scelta è stata presa a seguito di un recente problema di salute riscontrato ieri, solamente dieci giorni dopo un precedente malore che aveva richiesto l'intervento di un'ambulanza. Il medico della produzione è intervenuto prontamente, eseguendo i primi controlli e decidendo successivamente di far uscire Garibaldi per ulteriori accertamenti. La concorrente Beatrice Luzzi ha espresso la sua preoccupazione per la situazione di Garibaldi, condividendo il suo sfogo con Stefano Miele e menzionando le persone con cui aveva stretti legami nella casa, tra cui Garibaldi, tutte e tre ora fuori dalla competizione. Al momento, non sono disponibili dettagli sulla data del ritorno di Garibaldi nella casa, ma l'annuncio sui social suggerisce che la sua assenza sarà limitata al tempo necessario per i controlli medici. Dopo un periodo di osservazione in ospedale di tre giorni, Garibaldi era tornato al grande fratello. Ma un nuovo problema di salute sembra aver nuovamente influenzato la sua partecipazione al reality. La natura precisa dell'indisposizione attuale non è ancora chiara, ma si spera che la situazione non comporti ripercussioni gravi per Garibaldi.